Siamo arrivati al mio aggiornamento mensile, il mio portafoglio azionario, i miei dividendi, le mie opzioni e i miei investimenti alternativi. Questo aggiornamento segue un po' quello fatto alla chiusura del 2022 e dei miei risultati totali dell'anno. Devo dire che questo 2023 è iniziato molto bene, quasi come se non fosse cambiato niente nella quantità dei miei asset, ma in realtà c'è una mandracata. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario IEF ed autore del libro Da meno 35.000 a 0 in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare, dove ti vado ad accontare la mia personalissima esperienza da un adebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link sia per la versione cartacea che per quella Kindle qui sotto appunto nella descrizione del video. Ritorniamo per cui al mio brevissimo e consueto aggiornamento. Devo dire che anche questo mese è stato veramente sorprendente e mi ritrovo con mio grande stupore ad aver ottenuto il record assoluto fino ad ora per quanto riguarda un singolo mese tra i dividendi e i premi delle opzioni. Ma come dicevo c'è un piccolo magheggio, una mandracata come diceva Proietti nel film Febbre del Cavallo e ci arriviamo a breve ai risultati, ma prima andiamo anche a fare una breve panoramica sugli altri asset da me posseduti. Prima di tutto il pack di Andrea mio figlio, partiamo dal piano di accumulo che sto facendo per mio figlio che rientra finalmente nel territorio positivo con un piccolo game che sfiora quasi l'1% di segno più, premandosi di poco al di sotto di questo, ma in linea di massima essendo un investimento con ossa cadenza bisettimanale poco mi interessa. Più che altro il patrimonio è stato accumulato con piccoli versamenti durante tutto il 2022 burrascoso e questo mi ha permesso di comprare molte quote dell'etf che ricordo essere l'Xor MSCI World ad accumulazione col ticker WLDC. Accumulo una piccola somma ogni mese per un totale variabile versato ogni 15 giorni che esigerà nel totale del mese a 160 euro circa. Tanto lui ha altri 15 anni almeno se non di più per poter accumulare prima di poter accedere a questi fondi. Poi torniamo su we are starting, qui l'investimento è ancora ferma ai 400 euro fatto in new hit, ma come affermavo nell'ultimo aggiornamento, quello di fine anno del 2022, a causa degli imprevisti ho dovuto bloccare gli investimenti e anzi andare a prelevare un po' di liquidità dal mercato azionario. E' mia intenzione del 2023 andare a pescare altre opportunità di qualità e di interesse per me che possano permettermi di optare per delle start up che siano ottimi investimenti o perlomeno si spera e che fra una decina d'anni possono darmi quel guadagno maggiore per le quali le ho prescelte. Passiamo poi a prepay per le stesse motivazioni di cui sopra i miei investimenti in prepay sono bloccati. Mi dispiace perché nel frattempo avevo visto un paio di buone proposte che mi interessavano tantissimo ma non mi è stato possibile aumentare niente. I buoni propositi del 2022 si sono andati a schiantare contro la dura realtà della liquidità. I miei due attuali investimenti sono entrambi in scadenza alla fine del 2023. Ho però della liquidità disponibile sulla piattaforma legata al fatto che gli interessi che ho già ricevuto riguardo a quelli degli investimenti che ho fatto della famosa formula prepay e spero con quelli e altre liquidità che andrò ad aggiungere di andare a fare presto un altro investimento o più nel 2023. Passiamo infine ai dividendi e le opzioni. Per quanto riguarda i dividendi e le opzioni sono veramente felicissimo nonostante il fatto che come ho detto più volte ho dovuto rimuovere quasi 7.000 euro se non di più dal mio portafoglio di investimenti. Ma la maggior parte di questi dividendi provengono da una posizione di dicembre in Medical Property Trust fatta di 500 azioni che mi sono poi state elevate dalla vendita di una call che avevo fatto. È stata una buona operazione perché ho incassato un piccolissimo capital gain una trentina di euro nette e di 150 euro di premio per la vendita di quelle call. Quelle operazioni sono state incassate a dicembre mentre il dividendo pur avendo un ex dividend date in dicembre era da andare a assegnare appunto da andare a liquidare a gennaio e questo è stato un importo di 84.68 euro. A questo a gennaio si è aggiunto anche i 20.97 euro del dividendo dell'ETF iShare Global Select Dividend 100 per un totale di 105.65 euro di dividendi. Ma la parte su cosa arriva con le opzioni fatta ancora su Medical Property Trust ma a gennaio anche su Intel dove prevedevo alta volatilità per le velocissitudini che tutti conosciamo. Ed effettivamente mi sono spiegato le mani questo mese incassando un totale di euro che andava oltre ogni aspettative con le opzioni. Ovviamente avendo anche preso molti rischi dovuto alla discesa forse nata di Intel. Per cui qui sulla schermata potete vedere il totale dei dividendi di gennaio più i premi che ho raccolto con le opzioni di gennaio. Qualcosa di veramente interessante visto che ho superato i 350 euro. Allora eccoci sulla pagina del broker anzi in realtà è una schermatina. Prima di tutto volevo far notare che il rendimento per quanto riguarda l'inizio dell'anno è stato ottimo come un po' tutti i mercati. Il rendimento totale è stato dell'8,42% al netto di tutto quello che è il capital gain sulle azioni e non vengono considerati in questo contesto sia i dividendi che le opzioni. Ma parliamo di cose interessanti perché il rendimento si guarderà fra 20 anni non adesso e parliamo delle tre operazioni che ho fatto su Intel e delle tre operazioni che ho fatto su Medical Property Trust che possiamo vedere qui a schermo. Quella più interessante è stata quella fatta su Intel con Strike 30.5 159.46 euro e poi c'è stata quella su Medical Property Trust 46.67. Queste sono state tra l'altro le prime due operazioni che ho fatto su questi sottostanti. Per cui possedevo l'azione a dei prezzi che erano una decina di centesimi al di sotto del prezzo di strike e per cui ho fatto diciamo ho aperto queste opzioni incassando questi sontuosi premi. Poi nelle settimane successive i prezzi sono andati a modificarsi verso il basso. Ho cercato di mantenere degli strike sempre alti in maniera tale che alla fine anche se avessi perso diciamo il sottostante il guadagno totale fra quello che era la perdita alla differenza dello strike e il prezzo che avevo pagato e i dividendi o i premi incassati sarebbe stato a mio favore. Insomma alla fine dei conti ho incassato nel mese di gennaio 264.68 euro. Qui vediamo anche delle scadenze di febbraio ma in realtà le vediamo perché ho aperto call, ho venduto le call al gennaio però l'ultima settimana di gennaio finiva con la data del 3 di febbraio e questo è il motivo per il quale la si vede in febbraio però effettivamente i premi li ho incassati nel mese di gennaio e faccio così durante tutti i mesi. Non c'è solo quello che ho incassato ma come dicevo prima c'erano anche i dividendi. Ecco qui da queste immagini si può vedere quali sono invece i dividendi che ho incassato 20.97 euro dall'iShare Select Global Dividend 100 e 84.68 euro da Medical Property Trust per quello che era il titolo che possedevo a dicembre e come dicevo prima questi importi sia i dividendi che le opzioni sono inclusivi dei costi delle commissioni che pago al broker e delle tasse che sono andato a pagare. Per quanto riguarda le opzioni ho un vantaggio, non sto pagando niente in questo momento di tasse perché ho delle minusvalenze che mi sono portato dal 2022 e che si stanno portando appunto in questo 2023 e per cui tutti i premi che incasserò fino a una determinata somma che sono circa 850 euro saranno esentasse. Il totale di questo mese cioè gennaio 2023 è stato di 370.33 euro per cui diviso in 264.68 di premi incassati dalle opzioni e 105.65 di dividendi incassati. Come dicevo prima il record in assoluto fino a questo momento e speriamo che mese dopo mese questi record vadano a prantumarsi da soli perché insomma al di là dell'incasso che sono pochi spiccioli se uno si pensa a quanto si spende ogni mese per vivere però sono soddisfazioni personali è un qualcosa che ti sprona a fare sempre meglio e sempre di più nel mondo degli investimenti e comunque in tutto quello che è imparare l'arte se così si può dire dell'investire. Sto a questo punto seriamente pensando di spostare l'acquidità relativa alle opzioni su Interactive Brokers per la semplice motivazione che in quel modo poter risparmiare sui costi delle opzioni ma anche attuare una strategia della ruota da Will Strategy sfruttando sia la vendita delle put non possedendo gli asset che quella delle call a ottenere premi in entrambe le direzioni per tutte e due le operazioni. Ovviamente in quel caso mi dovrei andare a spostare per quanto riguarda la strategia in opzioni in un regime dichiarativo per quanto riguarda quella parte di portafoglio. Secondo voi ha senso fare questa cosa? Cosa ne pensate? Accetto veramente volentieri i vostri consigli. Bene eccoci arrivati anche alla fine di questo aggiornamento. Se il contenuto è stato di tuo gradimento ti chiedo la cortesia di farmelo capire veramente con poco con un bel pollice in su per l'argomento di YouTube ma anche per me. Lasciami anche un bel commento e dammi le tue impressioni in merito su quello che sta accadendo al mio portafoglio. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per favore di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa perderti in questo video successivo in quanto ti sarà notificato. Bene anche per oggi è tutto e niente ci vediamo al prossimo video. Ciao a presto! Ciao a presto!